L'autonomia differenziata costituisce un attacco all'unitarietà dei diritti sociali destinato ad accentuare le disuguaglianze già presenti e di vari territoriali. Riconoscere una competenza regionale esclusiva su materie di rilevanza strategica e non suscettibili di frazionamento territoriale rappresenterebbe la rinuncia ad un governo nazionale e unitario delle politiche economiche, industriali e di sviluppo. Il caso più eclatante è la sanità ma lo stesso riguarda l'istruzione, i trasporti, l'energia e la posizione della CGL che a Matera ha organizzato con l'AMPI un dibattito pubblico con autorevoli ospiti. L'autonomia differenziata e il temerato minano la Costituzione e noi vogliamo discuterne con persone che studiano e hanno studiato queste questioni per radicare nella popolazione tutta il convincimento che si va verso una strada sbagliata perché la difesa della Costituzione è un valore imprescindibile del nostro 25 aprile e del nostro agire quotidiano. Noi siamo qui per parlare di libertà e di democrazia perché sono due concetti che stridono col fascismo e con l'autonomia differenziata e anche con la riforma costituzionale del premariato. Quindi siamo su un binario omogeneo che esclude in maniera totale questa iniziativa legata a una violazione dei principi costitutivi della carta che fu firmata nel momento in cui l'Italia è scelsa la Repubblica contro la monarchia. E quindi oggi siamo qui a ricordare e a rilanciare questi valori che sono i valori della solidarietà, della inclusione, della partecipazione e del rispetto. Soprattutto nell'autonomia differenziata c'è un'aggressione cinica e spietata dell'aria ricca del paese che vuole essere ancora più ricca senza attendere che la parte più povera possa riequilibrare la sua condizione di disagio. Questo è l'autonomia differenziata. Dare di più a chi ha già di più e dar di meno a chi ha ancora di meno. Il problema di fondo è che il mezzogiorno non ha ancora compreso questo livello di pericolo. E come io dico in una battuta che è amara ma è anche leggera, mentre il mezzogiorno russa Calderò ripassa, mentre il mezzogiorno dorme, è inerte, è distratto, è indifferente, la cavalcata delle valchine del nord va avanti e Salvini è ancora a postare in piazza dell'uomo con la sua maglia verde con scritta in corsivo prima il nord e il sud che fa. Siamo qui per risvegliarlo.